Con l'acqua si vive, senza acqua si muore. Sembra una banalità eppure negli ultimi anni e nei prossimi avvenire proprio il possesso dell'acqua definirà gli equilibri economici e strategici a livello mondiale così come la mancanza di questa risorsa porterà inevitabili tensioni e guerre. Noi ci troviamo in un mondo dove la domanda di acqua è costantemente crescente principalmente perché aumenta la popolazione ma anche perché sempre più persone entrano in una fase di consumi elevata, da classe media, quindi sempre più persone possono mangiare carne più volte alla settimana, vanno più vestiti e quindi questo comporta una domanda crescente. Dall'altro c'è invece un'offerta che diminuisce perché l'acqua è sempre più inquinata e in molte regioni del mondo cambia la disponibilità dovuta agli effetti del cambiamento climatico. Quindi attori potenti, politici ed economici corrono ad accapararsi questo bene che diventa sempre più prezioso. Cosa vuol dire accaparrarsi l'acqua? Accaparrarsi l'acqua, il tema del libro Water Grabbing che io e l'autrice Maria Rosa Ianele abbiamo scritto è quello di controllare una risorsa, può essere una fonte, può essere un fiume, può essere un bacino e si può fare in molti modi o acquistando, quindi semplicemente pagando per i diritti di uso o di proprietà di una fonte, oppure attraverso una serie di infrastrutture, le dighe e le diversioni dei corsi fluviali invece può essere oggetto di controllo politico. Quindi uno Stato controlla l'acqua all'iscapito di un altro e questo può innescare tensioni politiche, ma anche il controllo della privatizzazione dell'acqua va a innescare situazioni di crisi togliendo l'acqua soprattutto ai soggetti più deboli che ne vengono privati sia per scopi igienici alimentari che per scopi agricoli di allevamento. Di questo tema si è parlato ieri a Verona dai missionari comboniani in occasione dei Martedì del Mondo con Emanuele Bonpan, coautore insieme a Mari Rosa Iannelli del libro pubblicato da Emy Water Grabbing, l'accaparramento dell'acqua. Ecco già in America Latina sta succedendo questo con le lotte contro le dighe, ad esempio, che rischiano di deviare l'acqua da territori importanti. Sì, deviare l'acqua da territori importanti o anche andare a distruggere la vita di decine di migliaia di persone che vivono in prossimità della diga. Questi sono esempi che abbiamo visto e raccontato nel libro in tutto il mondo. Il Mekong con le sue 39 dighe, il grande conflitto tra India e Cina sul Brahmaputra, le dighe in Brasile che stanno distruggendo la vita di centinaia di migliaia di indios e ancora l'Iriandaia, il Nilo. Ci sono tantissimi i fiumi che a causa delle dighe rischiano di innescare situazioni molto gravi sia dal punto di vista della sicurezza alimentare, igiene e ovviamente politica. Perché l'acqua deve rimanere un bene pubblico? L'acqua è un bene globale, non è imbrigliata in questo o quello stato. Ovviamente ci sono stati che ne dispongono di più di altre, regioni che ne dispongono di più di altre. e proprio per questo essendo un bene fondamentale, essendo la fonte della vita perché è il sangue del corpo terra che dà la linfa a tutti e quindi per questa sua fondamentalità primaria che è pari a quella dell'aria deve rimanere un bene condiviso per cui serve una gestione cooperativa e gestita come un bene comune.